Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti o bentrovati su Opinioni a Riguardo. Buono giovedì, 7 luglio a tutti quanti voi. Beh, ritorna il videoacquisti dopo un po' di tempo, un videoacquisti abbastanza breve, abbastanza sintetico sui miei appunto ultimi arrivi. Scusatemi per la tenuta prevalentemente estiva, ma insomma sono in ferie e quindi non me ne frega praticamente nulla di niente, sono qui solo esclusivamente per godermi un po' di relax. A questo punto direi di non perdirci in chiacchia e andare a vedere cosa ho acquistato in questi ultimi giorni. Il primo è un fumetto e sto parlando del Mastive Assedio, in questo caso parliamo di Thor. Il primo di due, se non ricordo male, di Thor per quanto riguarda il Mastive. Il secondo, se non erro, si chiama Un Nuovo Inizio che ovviamente acquisterò al prezzo di copertina di 15 euro. Brian Bendis e Oliver Coyper, insomma due nomi che non è la prima volta che li sentiamo. Interessante, come sempre, io sono pazzo, innamorato pazzo di Thor, e quindi qualsiasi cosa esce sul Dio del Tuono deve far parte della mia collezione. Guardate questa Spence Page, bellissima ragazzi. Il fumetto americano è tanto bizzarro quanto straordinario nei disegni. Non vedo l'ora di leggerlo, non sarà la mia prossima lettura, ma perché ho già qualche retrato da fare, però insomma a breve ne sentirete parlare. Ecco a voi, Assedio. Finiamo con i fumetti, passiamo ai libri. Il primo è quello di Joel Dickel. Eccolo qui, mattone gigantesco da Euro 22, uscito qualche mese fa, il caso Alaska Sanders, dall'autore di La verità sul caso di Enrique Beck, è il libro dei Baltimore. Eccolo qui, un mattone da quasi 600 pagine, ne ho sentito parlare sul tubo e sui vari forum di questo giovanissimo autore, già abbastanza famoso. Da una parte c'è chi lo odia alla grandissima, parlando addirittura di come quest'autore scimmiotta determinate frasi, e dall'altra parte c'è gente che lo eleva al massimo livello. Ragazzo di 38 anni, se non ricordo male, non vedo l'ora di leggerlo, sono veramente tanto tanto curioso. Avevo già in mente di acquistare sia il caso di Enrique Beck che il libro dei Baltimore. Vedrò, insomma, dopo questa lettura, se sarà il caso di approfondire. Joel Dicker, ecco a voi il mio secondo acquisto. Il mio terzo ed ultimo acquisto è una trilogia, eccolo qua, di qualche anno fa, La gabbia del re, Victoria Eveyard. Eccolo qui, il primo io l'ho già letto, Regina Rossa, ecco a voi, mi è piaciuto tantissimo. Il secondo è la spada di vetro che leggerò a breve. Il terzo è la gabbia del re. Ho deciso di acquistare sia la seconda che la terza parte che chiude questa trilogia. Come ho detto, la prima parte mi è piaciuta parecchio. Io qualcuno all'epoca l'avevo un po' avvicinata a Percy Jackson. Trovo qualche similitudine, devo essere sincero, però il mio modo di vedere la qualità, la caratterizzazione dei personaggi, la qualità della storia da parte di Victoria Eveyard, il mio modo di vedere, la fa sembrare una storia originale. A me il primo è piaciuto, come ho detto, non vedo l'ora di reggere spada di vetro, per poi appunto concludere con Gabbia del re. Tre libri al costo di 13 euro l'uno. Insomma, un acquisto interessantissimo. Come ho detto, sarà una delle mie prossime letture. Beh, che direbbe la gente, questo video acquisti rapido, spedito, termina qui. Spero, come sempre, sia stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!